Nelle farmacie le mascherine sono ormai introvabili e persino quelle certificate in viaggio dall'estero tardano ad arrivare, ma i bitontini sanno come rimediare. Se da un lato c'è chi si è ingegnato con la stampante 3D, dall'altro alcune sarte con cittadine con metodi più tradizionali hanno attivato le loro macchine da cucire per confezionare delle mascherine fatte in casa, per se stesse ma anche e soprattutto per aiutare gli altri. Si tratta di Beatrice Pica e Assunta Palladino, che si sono messe a lavoro per rispondere alla richiesta dell'assessore Rino Mangini e per offrire ai vigi urbani delle protezioni di stoffa. E di qualche giorno fa, infatti, la richiesta di Mangini alle sarte è di venire in soccorso dei vigi urbani, categoria che non può certo stare a casa, ma che è sprovvista di mascherine. La richiesta è di cucire mascherine che, sebbene non proteggano al 100% dal virus, forniscono una minima protezione. Sono contenta e onorata di aver risposto tempestivamente all'invito dell'assessore Rino Mangini e nel mio piccolo di aver contribuito alla sicurezza della polizia locale. E non solo, perché sono state tante le richieste dei miei concittadini e quindi grazie, grazie, grazie di cuore e mi raccomando a tutti vi dico rimanete a casa, anzi restiamo a casa. Grazie